frammenti, frammenti di un discorso d'amore sannita, sannita, cioè del sannio, sannio i sanniti, ci furono le tre guerre sannitiche, i romani dovettero vedersela coi sanniti coi sanniti per tanti decenni, per chi non lo sapesse il sannio sta in Campania in Campania, sta un po' a nord di Napoli, tanto per capirci, capito cari amici quindi frammenti di un discorso amoroso sannita, cioè del sannio e fu il grande semiologo francese Roland Barthes a scrivere la celeberrima opera frammenti, frammenti di un discorso amoroso cari amici e qua questo titolo io, appunto, questo video appunto io lo intitolo frammenti, frammenti di un discorso d'amore sannita, sannita per chi ho recuperato, ho recuperato il profilo facebook della girl, la girl, girl della girl del sannio, la girl del sannio, dietro la quale ci sta un cadavere vivente, capito un cadavere vivente ci sta, cioè è la questione di cui ho parlato questa mattina nel video relativo agli scherzi da prete, gli scherzi da prete, beh avendogli recuperato l'intera messaggistica privata che sta su facebook, ora nel riassunto di questo video vi posso per l'appunto lasciare un frammento, un solo frammento però di un discorso d'amore sannita, cioè del sannio ecco cari amici, quindi voi andate nel riassunto di questo video così potete leggere questo frammento è un frammento proprio come scrisse il grande semiologo vuol dire studioso dei segni, i segni, segni, significato, comportamento, la semiologia cioè la semiotica, la semiotica, la semiologia frammento di un discorso amoroso sannitico, sannitico cari amici ho recuperato tutto, ho recuperato, ho recuperato tutto cari amici, capito e dietro tutto questo discorso amoroso ci sta il cadavere, c'è il cadavere ci sta il cadavere che fa degli scherzi da prete perché penso pure che non stia bene a questo mondo questo cadavere, non stia bene capito, brutto cadavere, che hai manovrato una bella ragazza una bella ragazza, o l'hai creata tu sta ragazza qua l'hai manovrata, io non so che dire, non so brutto cadavere, brutto prete spretato, cadaverico ecco, io cari amici qua vi lascio un frammento di un discorso amoroso sannitico però, capito, del sannio, del sannio capito? eccoci qua, io so sempre questo qua, so sempre questo qua soprattutto sono questo qua ok cari, poi andate a vedere su web 2.0 che era Roland, Rolando, Rolando, Bartes, TH, Roland Bar, frammenti di un discorso amoroso e io qua nel riassunto di questo video ci metto solo il frammento di un lungo discorso amoroso ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni